Buongiorno a tutti, sesto giorno del tour, oggi ce ne andiamo alla Thuil Monte Bianco, quelle zanellà. Il tempo anche oggi bellissimo, abbiamo fatto colazione, siamo quasi pronti a partire e dai! Siamo arrivati a Courmayeur sotto le pendici del Monte Bianco, adesso ve lo mostrerò però. Che imponenza ragazzi, spettacolare, guardate poi questo parchetto così, affianco a un fiume. Avrei dovuto farveli vedere da pieni, ma vi metto solo la foto, non ho fatto in tempo. Adesso la merita da sdraio e non ci alziamo più, il resto della giornata lo passiamo qua, abbiamo visto tutto. La France! Siamo entrati nella parte francese, questa è la dogana, e qui c'è il bomber. Bomber San Bernardino! Tiac! Eccoci qua, siamo arrivati dal hotel oggi giornata tranquilla solo 250 km ce la siamo presa un po più di relax ne avevamo bisogno siamo fatti una bella manciata adesso siamo arrivati in questo bed and breakfast che sta praticamente a rueglio che si chiama bed and breakfast la casa nel bosco devo dire molto ospitali ben pulito forse il migliore tra hotel e insomma abbiamo affittato in questi giorni mi sono fatto la doccia nico ti sto facendo la doccia ci cambiamo e andiamo a cena a domani ma ci aspetta una bella cavalcata fino al colle del sommelier poi giriamo intorno al colle del sommelier ci facciamo sestriere e scendiamo diciamo vicino bibiana da da un mio amico dove dormiremo non lo vedo da 13 anni quindi super carambata e niente alla grande